Buongiorno a tutti e benvenuti al canale di Office of Cards. Ho speso l'ultimo mese della mia vita a confrontare e studiare tutte le possibili configurazioni per avere uno zaino efficiente. Uno zaino che mi permetta di avere sempre con me tutto quello che mi serve, che non pesi tanto, che sia resistente alle intemperie, che sia resistente o quantomeno protetto dai furti e che sia anche esteticamente piacevole. Sono arrivato ad una conclusione e in questo video vi racconto cosa ho scelto come zaino, cosa ci metto dentro e come organizzo le cose che ci metto dentro proprio per non avere mai il problema di essermi dimenticato quella cosa che mi serve. Siete pronti? Cominciamo! Allora partiamo dallo zaino. Eccolo qui. Lo zaino è il Peak Design, modello 20 litri, everyday bag. Allora partiamo dalle maniglie. Molto comodo perché ha una maniglia qui sopra, molto larga, che mi permette di prenderlo come e dove voglio e poi ha anche delle maniglie laterali che mi permettono di portarlo sia da una parte che dall'altra. Molto molto comodo. Dopodiché ha delle bretelle che hanno, attenzione, non so se lo sentite, la calamita. E quindi queste bretelle sostanzialmente non restano mai penzolanti a cavolo, ma anzi stanno sempre molto ordinate, attaccate allo schienale. Hanno anche un elemento di rotazione che permette di averlo sempre assolutamente attaccato alla schiena e questo per quando dovete camminare e fare lunghi tratti è molto molto comodo. E c'è anche un gancio, lo vedete qui, io non lo utilizzo. Se fosse molto pesante potete agganciarlo dall'altra parte e quindi vi aiuta con questa corda a livello dello sterno. L'esterno, lo vedete, molto semplice, molto chiuso, non ha molti elementi in vista. Qui ci sono due tasche utili per l'acqua. Io ci tengo i fazzoletti di carta e adesso andiamo a vedere che cosa c'è dentro e come ho organizzato i miei spazi. Allora partiamo dalla parte più importante che è il computer. C'è una zip qui sopra, la vedete? Io la apro e questa zip dà accesso ad una tasca dove ci sono quattro spazi. In uno di questi c'è il computer. Io ho un MacBook Pro 14 pollici che straconsiglio, non è economico, il mio caso è aziendale quindi non l'ho pagato io, ma dovessi prenderlo probabilmente oggi prenderei questo computer perché ha un rapporto fra la qualità e la performance e anche la portabilità. Io ci faccio tutto. Ci posso editare video, audio, chiaramente l'uso di lavoro è più semplice, mail, powerpoint eccetera. È uno strumento veramente ben fatto. Poi c'è una seconda tasca più piccola nella quale io metto il compagno del mio Mac che è l'iPad. L'iPad è molto utile perché ci sono cose che vengono meglio sull'iPad, cose per cui l'esperienza tattile è migliore rispetto all'esperienza di digitazione sulla tastiera ed è vero anche il viceversa. Ci sono cose che sulla tastiera vengono meglio. Se devo fare slide in powerpoint, scrivere mail lunghe eccetera eccetera, assolutamente uso il computer, uso la tastiera normale. Per esempio quando devo fare lavori grafici, il pennino e l'iPad, modificare una thumbnail di YouTube, magari scrivere anche degli appunti, fare delle riflessioni, quindi scrivere, fare dei disegni, dei diagrammi, l'iPad è un ottimo strumento. È anche un ottimo strumento verticale, orizzontale per leggere, leggere libri. Magari quando siete in viaggio avete un iPad con voi potete sempre aprire Short Form, potete aprire il Kindle oppure se volete rilassarvi potete aprire Netflix, potete aprire Prime Video, quello che volete voi e consumare dei contenuti. Io lo uso per leggere le news, lo uso per leggere i libri, lo uso anche per fare i videocorsi dove imparo delle skills e in questo caso uso Skillshare. Vi metterò i link di tutte le cose che ho detto sotto questo video, mi raccomando, però è un ottimo strumento. Voi direte beh mi pare un po' overkill iPad e anche il computer, beh sì c'è anche un altro vantaggio che ho il doppio delle batterie perché a questo punto quando magari il computer mi lascia a piedi e non ho una presa a portata di mano ho l'iPad con cui ho un altro 50, 60, 70, quello che è per cento di batteria. Quindi l'iPad se potete, io ve lo consiglio, non deve essere un iPad, basta essere un tablet, è un ottimo elemento. Tra l'altro messo dentro così, avete visto, non c'è la cover. Io ho due cover, una che tengo a casa e una che tengo in ufficio. Perché? Perché alla fine l'iPad qui dentro è super protetto ma quando arrivo lo metto sulla cover da una parte, lo metto sulla cover dall'altra e sostanzialmente ho la tastiera che altrimenti mi mancherebbe. Quindi ho il doppio vantaggio di avere la tastiera e avere anche l'approccio touchscreen. Andiamo avanti con le tasche. Partiamo dalla tasca sopra. Questa è weird, ve lo dico subito perché direte ma tu sei fuori di testa. Io invece una cosa alla quale ho riflettuto molto e trovo molto utile. Intanto la tasca ha un aggancio di tipo magnetico quindi se cade rimane chiusa perché è magnetica altrimenti poi vedete ha un gancio qui sotto che fa clac e a questo punto non si apre più. Allora nella tasca qui sopra noi abbiamo una taschina piccola piccola dove io tengo gli airpods per ascoltare, fare le call eccetera. Io qui uso i pro, quelli che insonorizzano e li trovo molto utili in treno, in aereo eccetera. Chiaramente se avessi più spazio userei le cuffie più grosse. Questi sono piccoli, fanno il loro mestiere. Adesso c'è il nuovo modello, io non l'ho comprato. Questi qui vanno più che bene. E poi qui dentro ho un'altra borsa e voi direte ma come? Ma sei fuori di testa? Metti un'altra borsa? Sì metto un'altra borsa dentro la quale io normalmente tengo, ve lo faccio vedere, la macchina fotografica che però è quella con cui sto facendo questo video quindi vi metterò un B-roll e vi racconterò la macchina fotografica. Eccola qui, è la Sony ZV-1, una fotocamera che è stata definita la fotocamera per vlogger perché è particolarmente ottimizzata per fare i video. Ora troverete su internet un miliardo di recensioni di questa fotocamera. Io quello che vi dico da appassionato di fotografia è perché l'ho presa. Alla fine abbiamo l'iPhone, io ho anche una Reflex. Perché ho preso questa fotocamera? Perché le capacità che ha questa fotocamera di fare foto di qualità sono infinitamente superiori rispetto ad una fotocamera dell'iPhone che ha un sensore microscopico e che molto di quello che vi fa vedere è frutto dell'intelligenza artificiale e dell'interpretazione delle immagini che il sensore fa, il software e non tanto di quello che il sensore effettivamente cattura. E poi perché quando scattiamo le foto con una fotocamera il nostro mindset è quello di un fotografo. Io mi ritrovo a essere estremamente più mindful quando scatto una foto con questa perché so che poi dovrò processarla, il che vuol dire che dovrò usare Lightroom, dovrò trasferirla sull'hard disk perché da sola non ci va e poi dovrò decidere se o meno pubblicarla sui social. Mentre invece quello che finisce nel camera roll del mio telefono è una cosa estremamente più rapida, con meno commitment, la faccio o non la faccio, becco quello che viene, la metto su Instagram e via. Quindi se il vostro obiettivo è fare fotografie da mettere sui social media, il telefonino va benissimo. Se il vostro obiettivo è fare fotografie magari anche da stampare, da approfondire, magari da ritagliare, di cui evidenziare particolari aspetti oppure la può sprodurre in maniera significativa. Quindi magari giocare con i colori, con i contrasti eccetera eccetera. Ecco questo oggetto io ve lo raccomando, poiché sia questo o un altro, però vi raccomando un oggetto con un uso dedicato. Quindi questa fotocamera io la tengo nella mia borsetta e ce l'ho sempre dietro perché sostanzialmente nel momento in cui voglio fare una foto fatta bene, vedo uno scenario, un paesaggio, una persona, una struttura, una statua, un palazzo, un fiore che mi piaccia particolarmente, tiro fuori questa e posso fare delle foto di grandissima qualità. Torniamo al video principale. E dopodiché ho due di queste, due batterie di ricambio perché questa macchina fotografica è molto bella ma la batteria dura abbastanza poco. Dopodiché qui dentro ho le chiavi di casa e il portafoglio che adesso non ho qui perché l'ho messo da un'altra parte. E voi direte scusami ma perché le devi tenere dentro una borsa? Molto semplice perché nel fine settimana io non voglio andare in giro con tutto lo zaino quando vado in giro con la mia famiglia e sono certo che se tiro fuori le cose una alla volta mi dimentico di qualcosa. È matematico. Invece con questa borsa che vedete ha anche una tracolla, poi per chi volesse c'è anche un gancio per metterla in cintura, io non lo faccio però ha anche una tracolla e quella magari la uso quando ho una figlia in braccio molto utile. Io tiro fuori la borsa e ho con me portafoglio, chiavi di casa e macchina fotografica che sono le uniche cose che voglio avere quando sono in giro con la mia famiglia. Quando poi arriva domenica sera prendo la borsa e la rimetto dentro lo zaino così facendo non mi dimentico niente. Sembra un overkill io lo trovo invece molto molto pratico perché non mi dimentico assolutamente niente e quindi il mio consiglio è valutate se è il caso anche per voi di inserire una piccola borsa che potete togliere e mettere a seconda dell'esigenza. A questo punto viene il bello perché questa tasca superiore adesso ve lo farò vedere con un'inquadratura secondaria a un fondo che è molto alto. Del resto l'avete visto prima io nel momento in cui ho messo dentro la mano ho tirato fuori subito la borsa e quindi il resto dello spazio com'è gestito? È gestito con due zip laterali che stanno a destra e a sinistra perché? Perché se siete destri lo volete da una parte se siete mancini lo volete dall'altra. Queste zip vanno giù a tutta larghezza lo vedete e poi questo zaino ha i ripiani. Ha un ripiano sotto, un ripiano intermedio che nel mio caso è vuoto e poi un ripiano superiore che è quello dove ho rimesso la mia sling bag si chiama. Perché hai ripiani? Perché questo zaino nasce come zaino per fotografi per mettere dentro delle macchine reflex e quindi il ripiano è il posto dove appoggiate la macchina fotografica. Perché il mio secondo ripiano è vuoto? Perché se stessi per andare a fare una gita, un viaggio, un qualcosa dove voglio fare foto con la reflex ci avrei messo la reflex altrimenti non mi serve e quindi siccome è pesante la reflex la porto solo se mi serve altrimenti uso ripeto la macchina, la Sony con cui sto girando questo video. Che cos'ho invece nel ripiano sotto? E qui entriamo nel mio MacGyver domain. Ho questo oggetto che si chiama Tech Bag, Tech Pouch. È un mattone dove ho tutta la cavetteria che mi serve per essere sicuro di non rimanere mai a secco e per fare tutto quello che mi serve. Guardate com'è organizzata. È organizzata come una fisarmonica e questo vi permette di trovare le cose che cercate immediatamente. Adesso vi faccio vedere cosa c'è qua dentro perché la parte più interessante. Allora innanzitutto cavi cavetti, cavo dell'Apple Watch, utile quando vado in trasferta perché altrimenti il giorno dopo sono a piedi, cavo USB USB mini per ricaricare la fotocamera e altre cose, cavo per ricaricare l'iPhone, cavo per ricaricare l'iPhone compresa USB-C e cavo USB-C USB-C per ricaricare l'iPad e non rimanere mai a secco. Dopodiché ho questo microfono che è quello che attacco sotto il telefono. Si chiama Rode VideoMic ME, made in Australia, che è quello che attacco sotto il telefono quando registro gli shorts. Così non perdo tempo. Anche qui ci ho pensato a lungo. Qual è il modo migliore per fare dei video con audio di qualità decente senza perdere mille anni? Questo. Lo attacco al telefono, premo REC, dico quello che devo dire, stacco questo, faccio un minimo di editing mettendo logo, musichina, ma veramente due minuti e in tre minuti totale ho il video caricato su YouTube. Quindi questo microfono, se volete fare lo YouTuber o il TikToker, ve lo consiglio. Dopodiché abbiamo un po' di biglietti da visita, sono sempre utili. La tessera via Milano, molto utile se viaggiate spesso dagli aeroporti di Milano. Dopodiché abbiamo medicine antiallergico, perché io sono allergico, un'ottima salvietta per il Covid. Poi abbiamo l'Urofen, purtroppo bisogna sempre averlo con noi. E poi abbiamo la tachipirina. Non girate senza, sembrano minchiate ragazzi. Il problema è che se in ufficio ti viene mal di testa, la tua produttività cala. Sapere di avere il Nurofen, sapere di avere la tachipirina, sapere di avere il Fexallegra, perché queste sono le tre cose che vi ho fatto vedere, mi permette nel momento in cui c'è qualcosa che non va, tac. O meglio ancora, viene il collega che ha mal di testa, tac gli do una mano e comunque sto aiutando un collega. Quindi avere due o tre medicinali sempre dietro è una cosa molto utile. Poi che cosa ho? Ho le cose del podcast. Batterie di ricambio. Se avete oggetti a batterie non girate mai senza le batterie di ricambio. Il microfono, che è il gemello di questo che ho qui sul collo. E quando faccio le interviste dal vivo, due microfoni che si appendono al collo delle persone per poter registrare audio di qualità molto alta. Il mio studio di registrazione. questo oggetto che costa 70 euro. Ci ho fatto tutti i podcast che ho fatto dal vivo. Si chiama Zoom H1N ed è un oggetto di una banalità incredibile che però fa un lavoro eccellente. Quindi volete fare il podcaster e o registrare audio a supporto di video di qualità molto alta? Questo oggetto fa il mestiere, costa due lire, ve lo straconsiglio. Poi arriviamo al comparto adattatori. Anche qua ci ho speso un sacco di tempo ragazzi adattatori. Allora questo è un adattatore da presa con uscita USB-C. Lo uso per il Mac. Perché? Perché è il più piccolo adattatore sul mercato, almeno lo era quando l'ho comprato, adesso magari c'è di meglio, che carica a 60 watt. Quindi mi ricarica il Mac in due ore al 100% e col 100% io faccio dalla mattina alla sera. Quindi piccolo, molto più piccolo di quello della Apple ma funziona tanto quanto. Quindi anche questo straconsigliato. E poi ho invece questo che è un po' più grosso, però ha un layout, vedete, schiacciato. Anche questo è molto importante. Pensateci bene al fattore forma, in base alle vostre esigenze, in base a dove pensate di utilizzarlo. Questo di prese USB-C ne ha due. Perché? Perché quando vado in trasferta, alla sera, io sul comodino devo mettermi l'iPhone e l'Apple Watch in carica. Se no il giorno dopo sono fermo. E quindi con questo lo schiaffo sotto il comodino, tiro su i miei due cavi e sono a posto così. Quindi questo molto comodo. Se il computer è scarico, uso questo. Se l'iPad è scarico, uso questo. Se è tutto scarico, sono stato pirla, devo alternare un attimino. Però con questi io non ho mai avuto nessun tipo di problema. E poi sempre per chi ha Apple, purtroppo la tassa da pagare è questo dongle. Dongle che adesso col Mac M1 è molto meno necessario perché la presa HDMI c'è sul device. Prima non c'era, quindi io per abitudine, questo adesso che ci penso, potrei anche non portarmelo. Ma è leggero, lo porto, dovesse servire magari a qualcuno, si sa mai. È leggero, non pesa niente. Prima invece era il modo per convertire l'USB-C con l'HDMI che altrimenti non c'era. Quindi l'avete vista, questa pouch è veramente l'unica cosa che devo tirare fuori quando mi serve un cavo, quando mi serve qualcosa, eccetera, eccetera. È anche molto comoda perché ha una maniglia qui sopra e delle maniglie laterali che vi permettono da dove la prendete sostanzialmente di avere grip. Ha anche una funzione che non uso mai che è questa piccola zip dietro che ha una tasca che permette di accedere qui dentro. Quindi se voi dentro la pouch mettete per esempio una di quelle batterie portatili per ricaricare l'iPhone, potete lasciare la batteria dentro e l'iPhone fuori o viceversa. Insomma, io sinceramente non l'ho usata, non la uso per questo scopo e quindi ve lo dico, c'è carino. Dopodiché che cosa abbiamo in questo zaino delle meraviglie? Abbiamo il mio fedelissimo treppiede che uso quando mi serve appoggiare l'iPhone in qualche maniera. Eccolo qui, lo apriamo, quindi l'iPhone viene fuori, bello lungo, posso farmi selfie, posso girarlo, posso fare quello che mi serve per fare dei brevi video e il telecomando qui sotto è un telecomando che permette di scattare foto o di fare start e stop della registrazione. Anche questo molto comodo perché se l'oggetto lo mettete un po' lontano da voi, poi dovete correre avanti e indietro, il che significa tempo di editing perché poi dovete tagliare eccetera eccetera. Le vite che viviamo devono essere molto efficienti e quindi se posso togliermi tre secondi di lavoro in post produzione lo faccio. Poi nelle tasche laterali che cos'ho? Il mio portafoglio BIS perché il mio portafoglio principale è grande come una carta di credito e contiene tre oggetti quindi sostanzialmente certe volte mi servono magari delle tessere, delle cose e le tengo qui dentro. Dopodiché abbiamo liquirizie amarelli. Ragazzi sapete cosa faccio? Le mangio una adesso, buonissime, le adoro. Poi abbiamo una penna perché purtroppo qualche volta servono ancora le penne anche se io faccio più o meno tutto con l'iPad e poi abbiamo dall'altra parte una batteria che tengo dentro perché sono un feticista della tecnologia che tengo dentro il sacchetto, una batteria da 4000 mAh che è per il caso estremo. Ora vi dico questa la sto trattando veramente male perché è praticamente sempre carica e non è il modo giusto per prendersi cura delle batterie. Però quel giorno che mi serve quel 3 per cento per riuscire a fare una telefonata di emergenza questa c'è e sostanzialmente quel lavoro lì lo fa molto bene. Questo è il mio setup, il mio zaino. Qui dentro ho l'ufficio quindi ovunque io sia nel mondo posso lavorare. Posso lavorare perché ho il computer, perché l'iPad è anche 4G collegato alla rete quindi posso usarlo come router o anche il telefono la stessa cosa. Ho tutte le prese che mi servono. La cosa che non ho e di cui mi sono pentito è un adattatore universale che mi permette magari di entrare in una presa UK, di entrare in una presa americana eccetera. Perché non ce l'ho? Non ce l'ho perché in questo lavoro io viaggio poco all'estero e quindi non mi serve. Però a dicembre sono andato a Londra, non vi dico le bestemmie perché non avevo l'adattatore, sono dovuto ingegnare a fare dei magheggi per riuscire a ricaricare i miei dispositivi. Però dicevo ho il mio ufficio, ho il mio studio di registrazione per il podcast che mi permette se ho cinque minuti morti in una pausa pranzo piuttosto se sono in coda e devo aspettare qualcuno qualcosa eccetera e c'è una condizione di silenzio minimo io riesco a lavorare, riesco a tagliare un video, riesco a registrare un intro, un altro, riesco a montare un podcast e questo sostanzialmente rende tempi che altrimenti userei per fare scroll infinito su Instagram o su Facebook rende quei tempi utili in cui posso generare valore, valore che sto condividendo con voi. Io vi dico prima di questo zaino non ne avevo un altro che ho avuto per quattro anni quindi prima di cambiare veramente ho voluto studiare. Trovo che questo zaino configurato così sia veramente il top per rispondere alle mie esigenze credo che mi durerà almeno altri quattro anni. Spero che qualcuna delle cose che vi ho condiviso possa esservi stata utile. Se avete altre domande, curiosità, commenti su come organizzo i miei spazi e gli oggetti che utilizzo per essere produttivo fatemele nella sezione commenti qui sotto in modo che io possa rispondere o fare magari un video dedicato. Se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video. Buona giornata a tutti. Ciao ciao!